Come mai l'iniziativa Porta Aperte Architettura e Design? L'iniziativa Porta Aperte nasce con l'obiettivo di parlare di qualità in architettura e sensibilizzare i cittadini e le persone all'architettura. E' rivolto alla cittadinanza e per l'occasione degli studi di architettura apriando le proprie porte dei propri studi per parlare e raccontare la qualità nell'architettura. A proposito di interventi di qualità, lei è stato l'artefice insieme ad un altro gruppo di progettazione della passerella che è stata costruita nella Valle dei Templi. Il progetto della passerella è stato un concorso internazionale dove una committenza illuminata ha deciso di promuovere il concorso. Quindi adesso faccio questo piccolo parentesi di cosa vuol dire fare qualità in architettura. Per quanto riguarda i progetti pubblici come può essere quello della passerella o altri, il mezzo per fare qualità è quello di promuovere i concorsi, quindi andare per meritocrazia, nominando delle giurie di qualità. Che riescono a poter valutare la qualità dei progetti che vengono presentati. L'architettura contemporanea, che tra l'altro è un termine che a volte viene rigettato e rifiutato, che io penso di capire anche il motivo per il quale, perché non è conosciuto. A volte si confonde l'edilizia e l'architettura di oggi, quindi brutta, perché nasce Portapertico? Forse questo è l'obiettivo principale. Io sono di Sciacca, ho lavorato fuori. Sciacca è una bella città, però gli esempi di architettura contemporanea sono pochissimi. Camminando per le città, camminando per le periferie, camminando per le zone costiere, non si vede questo. Si vede una città non rispettata, qualità di spazi pubblici non ottimizzati al massimo, paesaggi incontaminati, deturpati, non c'è quella sensibilità di agire con la mano leggera, integrandosi con i paesaggi e con la natura. Quindi di conseguenza le persone forse ritornano all'architettura del passato e hanno questo atteggiamento di rifiuto verso il contemporaneo, che non è questo. Quindi Portapertico vuole anche invitare le persone a conoscere, a entrare e poi a valutare, perché c'è un'offerta, c'è una qualità di architettura che si può dare, però purtroppo non è quella che vediamo. Architetto Ferrara, anche lei è coinvolto in questa iniziativa. Come Porte Aperte può essere d'aiuto alla città di Sciacca? Cosa vedranno i cittadini che entreranno in questi studi tecnici? Noi vorremmo fare in modo che in qualche maniera vengano sensibilizzati da noi stessi quando vedranno i nostri progetti, perché l'importanza di questa iniziativa è proprio sensibilizzare la gente all'architettura, al designer, perché lo spazio che viviamo nascono proprio da studi e da progettazione che in qualche maniera l'architetto realizza. Quindi vedremo dei progetti interessanti sull'architettura contemporanea, eccetera. Io colgo l'occasione per comunicare che nel mio studio ci sarà un progetto di provocazione, che è il progetto delle stufa di San Calogero, quello che non è stato in qualche maniera accettato dalla regione e che quindi faremo in modo di fare capire alla gente cosa volevamo fare e perché l'importanza di queste grotte sul Furia.